in diretta da Villa Signorini a Dercolano va ora in onda la settima edizione del Gran Gala di Beneficenza a favore dell'associazione AVEP associazione volontari ematologia pascale conduce Ivan Scudieri assistenza tecnica di Peppe Mojito la serata è organizzata da Lions Club Portici Miglio d'Oro media partner Radio Amore rieccoci buonasera ben ritrovati a tutti cari amici di Radio Amore da parte di Ivan Scudieri da parte di Peppe Mojito che si occupa della parte tecnica siamo in quella di Villa Signorini a Ercolano in questa cornice straordinaria molto molto di classe molto molto romantica anche direi perché ci sono delle luci c'è ci sono dei 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 spazi che sono sicuramente arredati a a regola d'arte perché 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 stasera c'è il Gran Gala di beneficenza dei Lions Club Portici Miglio d'Oro questa cena dove ci sarà tanta musica spettacoli cabaret sfilate di moda e insomma tante iniziative che però converranno ovviamente in un unica in unico obiettivo quello di poter fare della beneficenza quello di poter dare gioia a chi è meno fortunato di noi detto questo Radio Amore seguirà l'evento totalmente dal vivo e vi renderà anche partecipi di questo evento perché diffonderemo alcune di quelle che poi saranno le le esibizioni che si avvicenderanno sul palco dove sono quasi già tutti quanti pronti le persone iniziano ad arrivare c'è tanta gente elegante che si sta iniziando ad accomodare e noi saremo qui a raccontarvi questa storia questa bella storia di solidarietà questa bella storia di eh grande attenzione per chi è stato come dicevo prima meno fortunato di noi ma di questo poi parleremo e vi faremo anche sentire le voci dei diretti interessati di coloro che hanno in qualche modo organizzato questo evento noi saremo qui fino alle 24 al anche oltre perché no con Pepe Mojito che mi farà l'assistente tecnico come dice il buon Lello ed io che sono i moscudieri vi terrò compagnia e tra un po' vi faccio ascoltare anche come dicevo prima la voce di qualche protagonista della serata se pensi che sia logica che è scoprire in mezzo al traffico che amarsi in modo cosmico ma un attimo che poi per metri dopo l'amore sembra consumato già lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico le cose che succedono e succedono lo so ma che discorso sei tu che butti sempre il tutto giù ma che discorso nel tutto che poi non funziona in più così fai tu e poi con quello che succede una storia come questa non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta ad ogni anno ogni semaforo ma fuori di ecce c'era lo so che non coincidono le le previsioni e l'esito le le obiezioni in merito le immagino però perché fermarsi Nel radio c'è anche un verso che mi va Ma che discorsi scusa, la strada forse è chiusa Non si sa da dove viene, tanto meno dov'è va Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore aspetta Gira di qua, gira di qua, gira E qua con quello che succede, una vita come questa Forse è meglio se la strada non è proprio quella giusta Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno Non dobbiamo riconoscere la strada del ritorno ad ogni anno Ogni semaforo, semaforo che c'è Ed anche Daniele Silvestri su Radio Amore con ma che discorsi E noi parliamo, facciamo bei discorsi qui proprio in diretta da Villa Signorini a Ercolano E li facciamo insieme al nostro Vincenzo Minieri Poi dopo presentiamo il secondo ospite perché dobbiamo raccontare di questa storia Di questa storia di grande amore, di solidarietà Questa storia di persone che si incontrano dopo un anno e che si ritrovano per un evento assolutamente nobile Assolutamente sì, grazie Ivan per questo momento che mi sta dedicando Radio Amore Che chiaramente voglio ringraziare perché per il secondo anno consecutivo ci affianca in questo momento di grandissima solidarietà E voglio veramente salutare e abbracciare la famiglia Romano per l'impegno che da due anni a questa parte insieme a me porta avanti nella buona riuscita di questo evento Stasera serata bellissima Che succede stasera? Raccontaci un po' Stasera innanzitutto serata stupenda Quindi sotto le stelle del cielo e in Villa Signorini Stupendo contesto proprio Stupenda Villa del Settecento in Sita e in Ercolano Che tra l'altro è la nostra sede di club Noi come Club Lions Sporti Cimiglio d'Oro Affianchiamo per il settimo anno consecutivo l'associazione AVEP Che è l'associazione che sostiene il reparto di ematologia del Pascale Contribuendo chiaramente a quello che è un'attività importantissima che è l'assistenza domiciliare Sia in termini medici che in termini psicologici degli ammalati e delle loro famiglie Contribuendo nell'acquisto chiaramente di quelli che sono i macchinari e tutte le necessità Anche tenendo una segreteria open 24 ore su 24 attiva all'interno del reparto Nonché mantenendo all'interno del reparto un contratto perenne di abbonamento Sky Per far sì che i degenti del reparto stesso vivino una degenza un attimino più serena Più serena ma anche si possano distrarre magari in qualche modo Assolutamente perché chi soffre ha bisogno chiaramente di amore, di cuore, di sostentamento E noi siamo qui per questo il nostro motto lionistico è wizard Onde per cui laddove c'è bisogno e necessità c'è un lions dove chiaramente si sostituisce O quantomeno intercede con le istituzioni che a volte sono distratte o addirittura assenti Allora prima di passare al prossimo ospite ti faccio la stessa domanda che ti ho fatto l'anno scorso Quanto ti fa stare bene? Fare del bene A me mi fa stare bene benissimo direi 365 giorni all'anno Perché conclusa questa serata io da domani già penso alla nona edizione del Gran Galà Bellissimo E non siamo soli però perché insieme a Vincenzo Minieri c'è ancora un ospite Che come si chiama? Vincenzo presentacelo tu Allora vi presento è il nostro grandissimo Cemilimoniere Nonché prossimo presidente del nostro club Lions Portici Migliodoro Che è il carissimo amico Paolo Bill Willer Caro Paolo buonasera benvenuto sul Radio Amore Ciao buonasera a tutti Raccontaci un po' la tua esperienza relativamente a questo evento E quello che ci aspettiamo Quello che vivremo questa sera Io voglio partire dalle ultime parole che ha detto Enzo Sul fatto che questo evento in particolare Che è stato una creatura di Enzo Minieri dal nascere Ce l'ho quasi imposto E devo dire dopo sette anni Che noi siamo felici di poterlo fare e fare ancora Perché noi Lions siamo dei volontari In effetti il criterio che ci muove è che insieme si può fare qualcosa Sotto l'aspetto della solidarietà Da soli non si va da nessuna parte A noi servono le motivazioni per andare avanti Perché è sacrificata la cosa Però motivazioni come quelle di questa sera Ci ripagano di tutti gli sforzi e di tutto l'impegno che ci mettiamo Quindi grazie, grazie all'Avep Siamo noi che ringraziamo l'Avep Perché ci dà l'occasione Di sostanziare il nostro essere volontari E il nostro fare solidarietà Tu da quanti anni sei in questa organizzazione? Sono circa 18 anni che sono iscritto al Club Lions Quest'anno sono il cerimoniere del Club E l'anno prossimo sono stato eletto alla presidenza Complimenti Dal primo di luglio, grazie L'impegno cresce Ma quando ci stanno queste motivazioni qui Si può andare avanti con tanta serenità A nome allora di Radio Amore, del popolo campano E anche ovviamente di tutti coloro che sono in degenza in questi reparti Grazie, grazie a voi Grazie a voi, grazie State ascoltando in diretta da Villa Signorini a Dercolano La settima edizione del Gran Galà di Beneficenza A favore dell'Associazione Avep Associazione Volontari Ematologia Pascale Chiudi gli occhi Ed immagina una gioia Molto probabilmente Penceresti a una partenza Ma se vivesse solo di inizi Di incitazioni da prima volta Quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora Penseresti all'odore di un libro nuovo A quello di vernice fresco A un regalo da scartare Al giorno prima della festa Al 21 marzo Al primo abbraccio A una matita intera Alla primavera Ma la paura del debutto Al tremore dell'esordio Ma tra la partenza E il traguardo In mezzo c'è tutto il resto E tutto il resto E giorno dopo giorno E giorno dopo giorno E silenziosamente Costruire E costruire è sapere E poter rinunciare Alla perfezione Ma il finale E di certo più teatrale Così di ogni storia Ricordi solo la sua conclusione Così come l'ultimo picchiere L'ultima visione Un tramonto solitario L'inchino Poi si pari Ma tra l'attesa E il suo compimento Tra il primo tempo E il testamento In mezzo c'è tutto il resto E tutto il resto E giorno dopo giorno E giorno dopo giorno E silenziosamente Costruire E costruire è sapere E poter rinunciare Alla perfezione Ed anche Niccolò Fabbi Sul Radio Amore Con Costruire Noi stiamo costruendo Tanti sorrisi Anche grazie a Maria Condello Orgogliosamente Sicula E fondatrice Si può dire Del Club Lions Di Portici Raccontaci un po' La tua storia Vai Maria Beh la storia La storia con cui Ti è venuta in mente Di costruire E creare Già ero a Lions Del Club di Ercolano Perché ogni città Ha il suo club Però Portici Non c'aveva il club Siccome è una gran Bella città Ha detto Non è giusto Che non ha un club E allora Mi sono rivolta Conoscevo a Corrado Ho detto Corrado Io voglio fondare Un club a Portici Un club Lions E un club Quasi tutti i giovani In modo che crescono Nel lionismo Così Corrado Mi ha presentato Un po' di Suoi amici E abbiamo fondato Questo club All'inizio Ne eravamo 22 Adesso siamo cresciuti E mano a mano Cresciamo sempre di più Che cosa fa Il Lions Che cosa fanno Noi facciamo Non sempre beneficenza Noi ci Ci occupiamo Della sanità Ci occupiamo Di tante cose Dove c'è carenza Di attenzione Noi siamo là Comunque L'AVIP Da tanto tempo Ci ha chiesto aiuto E noi Ci siamo Veramente Aperte le braccia E siamo felici Di fare qualcosa Per l'AVIP Quanto ti fa stare bene Fare del bene Maria Tanto Io sono nata Facendo Tanto Perché quando uno Fa del bene Si sente già bene Pensa che io Sono stata molto male E questi amici Che ho conosciuto In questa situazione Ti hanno aiutato Mi hanno fatto stare bene Ti hanno fatto stare bene Noi ci aiutiamo fra di noi E cerchiamo di aiutare anche gli altri Maria grazie di essere intervenuta Tra un po' inizia lo spettacolo Quindi ti lascio prendere posto Grazie a te che siete sempre presente Grazie Grazie a Maria Condello Devo salutare anche Vincenzo Che ci sta ascoltando In quel di Nola e dintorni Quindi lui è in macchina In questo momento Sta ascoltando Radio Amore Restate con noi Perché fino alle 24 Saremo da Villa Signorini A raccontarvi Del gran galà Di beneficenza Dei Lion Amore Radio Amore Notte che serve L'indormore Mi fa di caser Notta stretta Per chi mora qui Che non l'occhio Non riesce a capire Notte che fusa Non riesce a capire Notte che s'arregretta Sane portare Igi un zoniscio Notte che fai chiar tu E chiar indi che ucru Notte non ta a dormito Ach' chì Sarelo a parte Notte che fai Notte che fai E' giusto il giorno che mi ha spettato Ote che sta a vincere a ti E che si vede a vita a me Ote che io sa vincere E che mi vede a sapere a te E che mi vede a sapere a te Ote che sa con te Ma non si fa molto Non ti che vede a sapere E che mi vede a sapere Che leo gà e tutto il cal Non ti che fai, non ti che fai E' giusto il giorno che mi ha spettato Non ti che sta a vincere a te E che si vede a vita a me E che mi vede a sapere a te 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 Associazione Volontari Ematologia Pascale Respirerò l'odore dei granai Magia per chi ci sarà e per i furnai Pioggia sarò e pioggia tu sarai I miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai Impareremo a camminare Per mano insieme a camminare Domenica E farsi Aspetterò che aprano gli naghi Più grande ti sembrerò e tu più grande sarai Nuove distanze ci riavvicineranno All'alto di un cielo diamante i nostri occhi vedranno Passare insieme soldati e spose E insieme a te Ballare piano Domenica 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 Grazie a tutti. 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 di quali? Grazie a tutti. 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 di tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dottore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. un amico mio. Grazie a tutti. che è un amico. che poi quando è riuscita finalmente a riempire tutta quanta la macchina mi guarda soddisfatto e mi dice amore hai visto? ci siamo riusciti a riempire tutta quanta la macchina amore hai ragione adesso non ci rimane altro che prendere il treno perché noi a Rucacci ci fattiamo eh? ditelo applausi voi state capendo i piatti mi rendo conto ma bisogna dirle questa verità mia moglie adora due tipi di vacanza la vacanza a mare e la vacanza culturale cioè vado a fare la vacanza a mare mi riposo sto tranquillo mi rilasso no quando vai a fare vacanza a mare ti è stanca appena arriva un coppolo di villeggiatura amore domani matti ci vediamo alle sette alle sette e mezzo scendiamo sulla spiaggia e sette e mezzo scoppa spiaggia amore e sette e mezzo andiamo ancora a mare vedo un applauso qua fallo così si svegliono anche gli altri se vado a fare la vacanza a mare vado a fare la vacanza culturale diciamo vado a fare la vacanza culturale mi riposo sto tranquillo mi rilasso no quando vai a fare vacanza culturale ti è stanca l'anno scorso mi ha portato quattro giorni a Berlino mi ha fatto che si dà tutte le chiese tutte le monumento tutte le piazze e la sera mi interrogava pure e se non rispondevo buono io non la roba facciamo un giro capo mi ha fatto che si dà tutte le fontane sono tornato a Napoli e tenevo il vestito da sotto i piedi come non ha fatto così che poi la cosa più incredibile della vacanza culturale aspettate un attimo è quando tua moglie dice amore andiamo a vedere il santuario tu hai morito hai capito che hai morito perché signori miei questo santuario è un incubo perché i santuari mi chiesto non ha portato i mani no si trovano sempre un coppa in cucuzione in montagna l'ultimo santuario che ho visto ho fatto 634 scalini nel 14 agosto faceva un calore pazzo appena sono arrivato in cima alla montagna ho avuto un'apparizione mistica avvolta in una luce bianca meravigliosa ha già visto la scensura è qua che poi sono tremendo soprattutto quando ha fatto la pulizia in casa quando si amare è un campo minato non posso passare quando fa non passa là 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 e allora ci passa scus fatta là no no ma che re non passare fai le pedate no neanche là e a Roma ma qua o là che già va prendi sempre da tuo figlio basta sotto sotto il mur meglio di te e poi forza non figli di soccolo no ma poi vuoi vuoi risolvere un po' il tuo rapporto con tua moglie ci abbiamo passato poca la folletta non l'avessi mai fatta la settimana scorsa mi stai separando o è meglio che lo sai se devi passare la folletta passala bene se non è meglio che non la passa proprio ma ora voglio passare una folletta a vedere che la moglie che vanno là no a passare poca la testa sotto la moglie e gira a sinistra e gira a destra e sotto il battiscopo e in dall'angolo e che ci sta la moglie che va e vi sei passata buona folletta amore hai ragione ma come hai fatto se sapessi la moglie che vanno là c'è la gemisì per essere passata buona folletta e per concludere quando vai a fare shopping con tua moglie quando vai a fare shopping con tua moglie ti trascinano ah facciamo presto a me bella 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 posso mettere vicino il vetrino oh 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 che tu fai pure tu oh oh ma perché capisci che stanno ora e ora vicino a un vestito ora e ora si ferma il tempo si fermano gli orologi no che poi quando si amano usurano una cosa questa cosa mi strida troppo sui segni questa cosa mi strida troppo sui fianchi e questa cosa mi strida troppo sulla pancia su un vestito e quando devi misurare una cosa tu non hai niente per nessuno dico ma mamma la posso misurare una cosa io e a te vante cose buone quando è bella stupando a non tirare un golo sta bisogno ma che fai piega grazie grazie state ascoltando in diretta da Villa Signorini a Dercolano la settima edizione del Gran Galà di Beneficenza a favore dell'Associazione Avep Associazione Volontari Ematologia Pascale rieccoci in diretta su Radio Amore ben ritrovati a tutti da parte di Ivano Scudieri da Pepe Monito che si occupa della parte tecnica siamo a Villa Signorini a Dercolano per questo Gran Galà di Beneficenza dei Lions insieme a me però c'è anche Anna Capasso un'attrice, una cantante, una donna di spettacolo ciao Anna ben ritrovata buonasera a tutti voi di Radio Amore come stai? buonasera a tutti i miei amici bene voi? bene benissimo allora sappiamo che tu a breve dovrai esibirti siamo contenti che tu sia qui cosa ci farei ascoltare? ma farò un brano in italiano e un in inglese per accontentare un po' i vari gusti delle persone qui ospiti questa sera durante questa cena di gala che emozione ti fa tornare qui? perché c'eri anche l'anno scorso io ricordo che eri ai tavoli sì mi ricordo con Diego siccome che stavo girando il film Gramigna non potevo assicurare per certo la mia presenza quindi ho preferito essere così senza impegno dare la presenza simbolica ma non artistica è sempre stata una serata molto molto importante e divertente c'è un bel parterre di ospiti ma non solo sul palco anche tra gli ospiti qui presente in questa villa straordinaria bellissima cornice che ne pensi della solidarietà in assoluto? per rispondere una porta aperta perché io sono pro solidarity cioè nel senso che comunque qualsiasi cosa fatto veramente realmente con solidarietà io ci sono ci sono a tutti i costi adesso sono tornata da Procida perché ieri ho ricevuto il premio Procida Film Festival per i film Gramigna come una delle protagoniste e quindi sono arrivata subito così subito all'ultimo momento e anche proprio per essere sempre presente per le persone meno fortunate di noi secondo me dobbiamo esserlo sempre disponibili noi abbiamo una missione noi artisti quello di emozionare ma anche quello di aiutare le persone mettersi al servizio delle persone che hanno bisogno di noi ascolta Anna e quindi progetti per quest'estate per il futuro sicuramente per quest'estate girerò molto tra musica e cinema bene perché comunque siamo in giro a prendere un po' di risultati i frutti raccontaci un po' di questa esperienza con Gramigna Gramigna vabbè quello che posso dire è che comunque siamo andati a Davido Manatello e per me essere un'attrice di 35 anni giovane con un bagaglio di esperienza varia è stato un bel risultato ogni attore vorrebbe arrivare lì da protagonista io ci sono arrivata e già essere arrivati anche se non abbiamo vinto è una cosa importante fa niente è importante esserci in certi contesti e te c'eri io c'ero e speriamo che sia soltanto un punto di partenza non di arrivo ovviamente ma no i Davido comunque hanno aperto altre porte adesso ho appena finito di girare un cortometraggio per il cinema Don Vesuvio di cui sono una sono la protagonista femminile bene e a breve uscirà il mio singolo in autunno ma te ti senti più cantante e più attrice è una domanda che mi fanno sempre io sono nata contemporaneamente per tutti e due i ruoli quindi ho iniziato da piccolina a sei anni già calcare i palcoscenici teatrali ma anche cantare allo zecchino d'oro poi io ho fatto saremo giovani a tredici anni insomma vanno di pari passo bene quindi non c'è una delle due cose che preferisci di più detto tra di noi a microfoni spedti non potrei stare senza cantare senza tutte le due senza tutti niente non si sbilancia Anna Capasso non si sbilancia senti vogliamo salutare anche Diego che è dall'altra parte ogni tanto ce lo salutiamo Diego Cuccio va bene va bene dopo lo andiamo a recuperare così magari so che un pochino più ti io ti sto compreando veramente compreando e Diego paura allora facciamo così tempo di una canzone io e te andiamo di là lo becchiamo e ce lo riportiamo vai Peppe Maito un bacio a tutti i radioascoltatori Radio Amore aspetta vai dobbiamo beccare insieme no 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 fa lui no vabbè grazie Anna grazie grazie Anna Capasso un bacio a tutti i radioascoltatori seguitemi sempre e viva Radio Amore viva Radio Amore viva Anna Capasso la parola nuova il sapore ne verrà ma due occhi nuove il petalino arriverà no ne verrà viene aperta chi inf deine dicendo la musica si muove a pena Ma è un dono che mi sta a piedi dentro Mi sento un bribido lungo la schiena Un colpo che fa il pieno centro Via, via, no Via, via, no Via, via, no Allora vogliamo raccontare un po' cosa sta accadendo questa sera a Villa Signorini Sta accadendo che stiamo svolgendo la settima edizione dell'evento che ormai è molto atteso A favore dell'AVEP, Associazione Volontaria Ematologia del Pascale E' un evento che noi facciamo per beneficenza E tutto quello che riusciamo a ricavare lo doniamo all'AVEP Sicuramente una cosa molto nobile quella che fanno Un'associazione che dà assistenza agli ammalati Che vengono dimessi dall'ospedale Pascale E naturalmente, ritornando a casa, hanno bisogno di avere dei punti fermi di riferimento E che sono quelli dei medici che li hanno assistiti Dei paramedici perché gli infermieri che sono stati a fianco a loro durante l'adeggenza Anche l'operazione del caso Continuano ad essere con loro E' una cosa molto molto importante L'ho chiesto a tutti gli ospiti che questa sera si sono avvicendati Ma quanto fa bene fare del bene? Fa tanto bene Bisogna... Allora, io sono convinto che ad un certo punto della propria vita Bisogna pensare di dover dare anche agli altri Non pensare solamente a se stessi Quello che si è fatto per se stessi va bene Ma c'è un momento in cui... Allargare un po' gli orizzonti C'è un momento in cui ognuno di noi deve dare anche agli altri Proprio un senso di responsabilità nei confronti di chi sta meno bene di noi magari Di chi è in difficoltà Per un senso di responsabilità, per un senso di dovere Perché è normale che chi ha la possibilità di poter aiutare lo deve fare E noi non ci vogliamo sovrapporre a nessuno Ma come Lion siamo attenti alle esigenze del territorio E dove possiamo diamo il nostro aiuto Ma chi volesse avvicinarsi a questa organizzazione Volesse in qualche modo contribuire Cosa devi fare? Proprio in soldoni? Proprio nei fatti? In soldoni per quanto riguarda Ecco per esempio un evento del genere Si può mettere in contatto con noi Noi abbiamo una pagina Facebook Ma al di là di quello Comunque il nostro club Lions Club Portici Miglio d'Oro È raggiungibile E quindi è facilmente È possibile chiederci E sapere come bisogna comportarsi Primo contatto cercare Lions Miglio d'Oro su Facebook Esattamente Sì su Facebook E poi naturalmente Noi siamo a disposizione E possiamo metterci Possiamo dire come bisogna fare Per fare Per contribuire in qualche modo Il primo bilancio di questa serata Come sta andando? Mi sembra benissimo C'è un'affluenza di gente Io già l'ho detto prima Quando ho fatto i saluti Sono convinto che la gente Che ha partecipato a questa serata Lo ha fatto sentendo il dovere Di aiutare Lo ha fatto per solidarietà Non per venirsi a sedere ai tavoli A cenare Per guardare lo spettacolo Quello è il contorno Diciamo è quello che Noi abbiamo offerto Ringraziando queste persone Che sono venute qui E che hanno dato il loro contributo Di solidarietà Qualcuno ha dato un minimo Contributo di solidarietà Diciamo forse la maggioranza Ma c'è stato anche chi Poi ha donato di più Bene E questo fa onore Ovviamente a chi Si è sentito di fare Uno sforzo in più magari Oppure chi aveva la possibilità Di fare qualcosa in più E l'ha fatto Certo Grazie Grazie Presidente Grazie a voi Grazie al contributo Che anche voi date A questa nostra attività Le porte di Radio Amore Saranno sempre aperte per lei Grazie Buona serata Buon proseguimento State ascoltando In diretta da Villa Signorini A Dercolano La settima edizione Del Gran Gala di Beneficenza A favore dell'Associazione Avep Associazione Volontari Ematologia Pascale Ho il piacere e l'onore Di avere accanto a me Un festeggiato Ma non un festeggiato così Un festeggiato speciale Perché abbiamo con noi Diego Paura Giornalista Che oggi festeggia Il suo compleanno Proprio nella cornice Di Villa Signorini Durante il Gran Gala di Beneficenza Tanti auguri Diego Grazie Grazie Ivan Buonasera a te E a tutti i radioascoltatori Di Radio Amore Un calorosissimo E affettuoso saluto Alla famiglia Romano Soprattutto E chiaramente a te Tutta la parte tecnica Il nostro caro Pepe Mojito Che si occupa Il nostro caro Pepe Allora Ti volevo chiedere Come è sto compleanno Allora Il tuo bilancio Di questa giornata Intanto come è andata E come sta andando Allora Ti dico che è partito ieri Diciamo lo stress Tra virgolette Ma non da compleanno Lo stress perché Ieri sono stato a Procida Al Procida Film Festival Sì Dove ho accompagnato Mia moglie Anna Capasso Per questo film Che era stato presentato Anche lì Gramigna Che è stato finalista Davide Nonatello Quindi questa notte Ovvero ieri notte Abbiamo fatto Appena le 4 e mezza Di mattina Io alle 7 Sono partito da Procida Per venire a Napoli Perché abbiamo presentato Il cartellone La nuova stagione Il San Nazaro Del quale io Ho pure la comunicazione Quindi il tempo Di finire il San Nazaro Un sopralluogo Ad un evento Che dovevo organizzare Stasera qui dove Bella vita intensa direi Bella vita intensa Un bel compleanno Ma quanti si può sapere? Come no? Sono 47 47 ragazzi Sembra mio figlio Cioè è un ragazzino È un po' buono Ivan Eh assolutamente Anzi no 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 Senti allora Sono contento anche Di aver intanto Intervistato Anna Voglio condividerla con te Era una ragazza Veramente che si impegna Tantissimo nel mondo Dello spettacolo E sicuramente Anche grazie a te Che le dai dei consigli giusti Visto che comunque Ne fai parte In qualche modo Guarda io personalmente Eh ma neanche consiglio L'ascolto per quello Che lei mi racconta Nella sua giornata Di lavoro Ma eh Ne sto pienamente fuori Perché standone fuori Ed è difficile Diciamo non ho Purtroppo Nessuna Neanche nessuna aderenza Nessuna cosa Vorrei dare una mano A lei come a tutti Ma è un po' Cioè il fatto che tu ci sia accanto È sicuramente importante Ma ci sono come marito Purtroppo Come marito Non come Mica poco Non come professionista Mica scontato No 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 Ma è dura Anche se poi ogni tanto Beh Quella è una cosa che C'è sempre qualche maligno Che dice Ah va bene Ma perché ha fatto Per chi c'è Diego Eh no Il problema è un altro Penso che ne avete Discusso prima Non so ma Anna Ha iniziato a cantare Otto anni Sì Ha recitato 15 con i fratelli Gallo Quindi di conseguenza Io sono arrivato Quando lei ne aveva 28 Già aveva fatto Tanta roba Già aveva fatto tanta roba Già comunque Era il mondo Dello spettacolo Però Come si dice Dove c'è Ogni tanto Qualcuno che butta Un pizzico di pepe Forse per raffirlo Ma lasciamo Lasciamoli Vi facciamo fare Diego Allora io ti auguro Ancora un buon compleanno Grazie per essere stato con noi Grazie a te Ivan Grazie a tutti voi Noi siamo qui In questa splendida serata Forza Avep E soprattutto Assolutamente Lions che appoggiano Con Enzo Minieri E ti aspetto ospite La grande notte Questa volta ci dovrò essere Questa volta dovrai esserci Un abbraccio Grazie ancora Buon proseguo Grazie a Diego Paura Restate con noi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Buonanotte. Grazie a tutti. 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 Chi premia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti.